Noi non vogliamo processare te come persona, ma ciò che rappresenti, il partito che tu incarni. La drammatica vicenda del sequestro e della prigionia di Aldo Moro, ricostruita attraverso gli occhi di Chiara, una giovane brigatista. Siamo noi che da quasi due mesi viviamo con lui, nella stessa casa, nella stessa prigione. Noi siamo disposti a morire per le nostre idee. In fondo la sua è una religione, come la mia.